Io penso che questa è una stagione in cui il centro-sinistra sicuramente deve ripartire dalle amministrazioni locali, dai sindaci. A maggio ci sarà una grande tornata elettorale con oltre 4.000 comuni che complessivamente in Italia vanno al voto, significa uno su due. Penso che i sindaci uscenti siano i naturali successori di loro stessi rispetto all'esigenza di continuare un lavoro svolto, di perseguirlo e di andare oltre. Ed è questo per il quale ho reso da tempo peraltro la mia disponibilità, la definizione anche di questa vicenda giudiziaria, su cui personalmente non avevo mai avuto dubbi, ma vale sempre la regola di Trapattoni, non di regatto se non ce l'è nel sacco, mi fortifica in questo intendimento. Ai primi di marzo ci sarà anche il congresso del Partito Democratico, meno male, poi ci saranno le elezioni amministrative ed europee a maggio, per cui ritengo che ci sia una indicazione già chiara. Comunque noi siamo sempre pronti al confronto, perché poi il confronto sperabilmente dovrebbe essere sulle idee, sulle cose da fare, su quello che si è fatto e su quello che si vuole fare, perché poi il merito delle questioni resta sempre una materia scottante, ma penso che ne valga la pena.